Il suo ritratto. Milord, ora vi credo. Termortimer conoscete il contenuto della lettera. Non so niente. Deve avervi senza dubbio confidato. Niente mi ha confidato e per me rimane un mistero che Lord Lester, il favorito di Elisabetta, sia l'uomo dal quale Maria spera di essere salvata. Eppure deve essere così. I vostri occhi dicono fin troppo chiaramente che cosa voi sentite per lei. A presto! A presto! A presto! A presto! A presto!